Il grande fratello VIP3 ha iniziato a sorpresa 24 ore prima della diretta ufficiale. Il programma condotta da Ilari Blasi e Alfonso Signorini inizierà questa sera, lunedì 24 settembre, con una prima puntata con il botto. Silvia Provvedi, insieme a sua sorella Giulia, è una delle concorrenti del reality entrata a sorpresa nella caverna. Le telecamere hanno ripreso l'ex fidanzata di Fabrizio Corona in un momento intimo, riprendendola in diretta nazionale. La produzione, infatti, ha chiesto alle ragazze di prendere i vestiti in tema con la caverna e di andare nel magazzino a cambiarsi. Le telecamere, però, hanno ripreso le ragazze mentre si spogliavano. Silvia Provvedi è dunque apparsa in onda poco dopo le 00.30 totalmente a seno scoperto. Si preannuncia già movimentata questa terza edizione di uno dei programmi di puntata di Mediaset, nella sua versione celebrità. Insieme alle sorelle Provvedi sono entrati nella casa anche il comico Maurizio Battista e Walter Nudo. Il dramma di Walter Nudo Walter Nudo ha raccontato alcune settimane fa a Nuovo TV il rapporto con i due figli, Elvis e Martin Carlos, avuti dalla relazione con Tatiana Tassara con cui l'attore è stato fidanzato dalla metà degli anni 90 al 2002. Ci vediamo due o tre volte all'anno, ma ci sentiamo tutti i giorni. Il motivo che avrebbe allontanato Nudo dai suoi due meravigliosi figli non sono questioni familiari o controversie di questo tipo, ma la carriera professionale dei suoi ragazzi che hanno intrapresa la carriera della danza sono il classico padre che lascia liberi i propri figli. Loro sono ballerini di danza classica, uno vive a Monaco e l'altro in Russia, così ha affermato il prossimo concorrente del GF VIP 3 al settimanale. Se le loro strade li portano lontani da me non significa perderli, queste le ultime parole dell'attore.